A Roseto degli Abruzzi sono terminati i lavori per l'allargamento della carreggiata e rifacimento dell'asfalto a Costelanciano, una delle strade più trafficate del territorio perché rappresenta una scorciatoia per chi da Cologna a Spiaggia va verso la Terramomare. Costo totale dei lavori circa un milione di euro provenienti da fondi PNRR. Sì, è un intervento complessivo di un milione di euro che permetterà alla frazione di Costelanciano ma dico anche a tutto il territorio rosetano di avere un collegamento strategico tra la Terramomare e la SS16. Era una strada che conoscevamo molto bene, segnalata da tantissimi anni, piena di buche e crateri di oltre 50 centimetri anche di profondità. Insomma, come Comune abbiamo avuto anche diverse cause di risarcimento danni per questa strada e quindi vedere oggi 3,6 km completata, completamente asfaltata e ovviamente con dei muri di contenimento per il rischio idrogeologico è una grande soddisfazione che è da scrivere ovviamente anche all'amministrazione Nugnes. Oltre al manto stradale sono stati seguiti anche importanti lavori antiallagamento con l'intervento di deflusso delle acque problematica questa da anni al centro di numerose polemiche. Una problematica che interessava il territorio da tanto tempo e che oggi finalmente trova una conclusione e ovviamente con una nuova pavimentazione per tutto il tratto nonostante qualcuno in questi mesi ha sollecitato i cittadini inventando qualcosa di non vero. Ecco, la realtà dei fatti è che qui c'è una strada nuova, completa, con un rischio idraulico-idrogeologico completato. Si sta lavorando anche nelle altre frazioni cittadine? Assolutamente sì, San Giovanni partirà presto Santa Lucia, ci sono diversi interventi su Via Roma, Lungomare Sud, insomma, tanti sono gli interventi dell'amministrazione per quanto riguarda il rischio idraulico-idrogeologico. Le nuove scuole, insomma, c'è tanto da fare per questo 2024.